Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È una manovra varata in un contesto complicato e difficile, però che riesce a portare a casa dei risultati importanti. Sanità di sesto idrogeologico e aiuti alle fasce più deboli, senza aumentare la pressione fiscale e senza rinunciare allo sviluppo delle infrastrutture. Questi pilastri della legge di bilancio regionale per il triennio 2023-2025, approvata dall'Aggiunta Acquaroli e che sarà ora trasmessa alla Commissione Consigliare per l'esame, prima della sua approvazione definitiva da parte dell'Assemblea Legislativa. Acquaroli ha elencato le priorità di questa manovra. Il primo tema è quello sulla medicina del territorio, dove metteremo 9 milioni di euro in investimento nel prossimo triennio. Poi andiamo a confermare un investimento cospicuo anche a sostegno delle borse, sia per i medici di medicina generale che per gli specializzanti. Poi c'è un'altra somma molto importante, 21 milioni di euro nel triennio per fronteggiare il dissesto idrogeologico e anche la manutenzione dei fiumi. E poi c'è un altro stanziamento per sostenere le famiglie più deboli rispetto al tema del caro energia, sostenendo gli investimenti che possono abbattere in bolletta il costo dell'energia delle loro abitazioni. A queste si aggiungono alcune misure trasversali a numerosi aspetti della vita della comunità marchigiana, che cerca di ripartire dopo una serie di emergenze infinite che va avanti dal sisma del 2016. Allora, l'impulso più importante per la ripresa è l'utilizzo dei fondi europei. Questo è scontato dirlo e tutti sappiamo che i fondi europei hanno bisogno di un cofinanziamento. Abbiamo fatto grandi sacrifici per assimilare delle risorse e pensate che da 80 a 90 milioni di cofinanziamento l'abbiamo portati nel triennio, perché andiamo ad approvare un bilancio di previsione 23, 24, 25 a 140 milioni nel triennio 23, 24, 25. Questo è molto importante, vi faccio un esempio concreto. Se noi cofinanziamo 10, abbiamo fondi per 60. Pensate che moltiplicatore. In quali settori? Questo motore ne è più disparati, dalle infrastrutture a qualsiasi altra cosa.